ecco qua il video numero 8 dove vi farò vedere adesso giriamo su così lo faccio vedere ecco da allora fino adesso vi ho fatto vedere in pratica che ero appena arrivato all'opera alla rivoira in qualità di operaio però nel frattempo andavo a scuola è qui da una scuola serale per imparare le basi del disegno meccanico è un attimo che si abbastanza centrato questa qui una curiosità che in pratica era il mio contratto di lavoro era una specie di busta paga dove si può vedere che prendevo 50.000 lire 50.000 lire al mese 47 erotti se non vado errato stipendio e poi varie cosette la contingenza e tutto il resto per un totale circa 50.000 lire i miei primi stipendi alla rivoira ecco vedete rivoira che appunto voleva dire se poi aveva cambiato sigla se non mi ricordo qual era comunque non è un po ecco così è iniziata l'avventura da disegnatore appiccicato tra virgolette vuol dire sempre lì attaccato al tecnigrafo che mi ha accompagnato fino agli anni 90 quando dovuto imparare a usare il computer e diventare e disegnare con il programma autocad andiamo avanti ecco qui adesso cambiare ecco qui ci sono quattro foto che avevo messo qua però questo non era il mio tecnico era un altro più grande ma io vi voglio far vedere se se ci riesco vi voglio far vedere un attimo che ecco qua dovrebbe essere qui sì allora qui innanzitutto dobbiamo portare sul disegno ecco è tutto un traffico è una roba casalinga che mi sono inventato io quindi abbiate pazienza allora allora questa è questa queste sette foto sono state scattate nel 1963 negli uffici della rivoira dove ho iniziato il mestiere da disegnatore meccanico e qui avevo la mia postazione il tavolo il tecnigrafo e questo è il famoso emilio il mio quello che mi ha insegnato tante cose e che e che lo ringrazio ancora adesso è un'occasione per ringraziarlo tramite questo video questi erano i miei compagni d'ufficio con tutti gli altri tecnigrafi vedete quanti ce n'erano era un stanzone pieno di tecnigrafi e questi erano tutti i miei compagni di lavoro di quel tempo fumavo anche la pipa a quanto pare non mi ricordavo neanche più ecco questo momento così di allora si facevano le foto per poi vedete sono tutti bianco e nero avete notato tutti bianco e nero qui invece erano tutti i miei compagni di scuola che nel frattempo andavo a scuola serale e questi sono i miei compagni dell'istituto tecnico San Secondo del 1963 adesso volevo farvi vedere perché io volevo farvi vedere il tecnigrafo però devo andarlo a beccare eccolo qua eccolo qua eccolo l'ho trovato c'è anche la descrizione io nel computer metto sempre un sacco di robe e poi un attimo che ecco e poi però devo andare a cercare e non è tutto così immediato allora avevo scritto sul tempo il tecnigrafo era fino a solo poco tempo fa un elemento immancabile nello studio di architetti, ingegneri, geometri, disegnatori meccanici e progettisti il tecnigrafo infatti è il piano di lavoro sul quale venivano concretizzate le idee che si trasformavano in progetti il tecnigrafo è un tavolo di dimensioni ampie che ha la possibilità di assumere varie posizioni sia in orizzontale sia in verticale dopo vi faccio vedere strumento indispensabile in un tecnigrafo è il braccio costituito da due elementi uniti da uno snodo un'estremità è fissata da una parte superiore del tecnigrafo l'altra mediante un elemento circolare regge le due righe che formano un angolo retto vi faccio poi vedere tutto perché ci sono le foto del mio tecnigrafo il primo tecnigrafo nell'era tecnologica in cui viviamo non potevano mancare software primo fra tutti autocad che riuscissero a disegnare al posto delle persone soppiantandole in parte il vecchio tecnigrafo nonostante tutto il tecnigrafo è ancora presente negli studi di molti architetti progettisti eccetera più come oggetto d'arrendamento che come vero e proprio strumento di lavoro e infatti ne ho visti in vari posti sono stati costruiti nel passato infatti tecnigrafi molto belli esteticamente che riescono a infondere maggiore stile classico all'ufficio in particolare penso sono quelli di legno e ghisa il tecnigrafo qui esposto mi ha accompagnato nei primi anni della mia vita lavorativa da disegnatore meccanico progettista sostituito poi da altri più moderni fino all'avvento del computer e questa cosa qua l'ho scritta nel 2013 quindi neanche tanti anni eccolo qua questo è il mio primo tecnigrafo come vedete ha il basamento tutto in legno in pratica è tutto in legno basamento queste sono le due righe questo è il goniometro dove ruotando si fanno gli angoli questi sono i due bracci andiamo avanti poi ci sono dei particolari qui altre viste altre viste poi ci sono dei particolari dove si vede da dietro dove si vede l'incastellatura proprio della base c'era addirittura anche un cassetto per metterci la roba dentro e poi c'è si poteva orientare in così si poteva orientare da esattamente in verticale dagli altre posizioni tramite questo aggeggio che era qua dietro ecco questo è il goniometro proprio della riva e questo era quello che noi il disegnatore impugnava ed era sempre in movimento perché era la vita del disegnatore era questa questi sono i bracci che pensate che sto braccio appeso là sopra è quello che dove si vede qui si vede bene qua appeso là sopra fa in modo che le righe stiano sempre nella loro posizione a parte il fatto che se io poi le giro le devo girare io con quello quella manopola ecco ecco qui vi ho fatto vedere tutto questo poi ah beh una curiosità nel 1982 la ditta Sacchi nel sessantesimo questo era un Sacchi c'erano varie ditte di tecnigrafi c'era Sacchi l'Alemano e tanti altri questo era il più famoso nel sessantesimo universale della fondazione elargiva due milioni di lire a chi avrebbe presentato il tecnigrafo lo riesco a leggere ah il tecnigrafo Sacchi più antico qui sotto è questo mio tecnigrafo che era il mio primo tecnigrafo l'avevo già comprato di terzo a quarta mano quindi era era molto antico quindi era già dei primi del novecento del novecento e là qui sotto è riprodotto il volantino che indica la proposta cioè la ditta questa ditta Sacchi che sta scritto qua tecnigrafo Sacchi aveva proposto di dare un premio a quelli che avevano ecco esatto avevano fatto questo volantino e il mio tecnigrafo era esattamente questo e quindi vedete uguale e davano addirittura e l'hanno chiamato chi l'ha visto nel retro del volantino c'era tutto il regolamento per arrivare poi ad avere questo questo prebio eh adesso io penso che questo qui lo terminerò qua aspetta è che qua eh ti auguro questo ecco questo lo vorrei terminare qui anche se non è molto lungo però da l'idea del passaggio da operaio a disegnatore eh lì 63 diciamo che 63 avevo 20 anni ed ero già appunto eh ciò cane che mi chiama all'ordine quindi eh boh allora vi vedremo per il prossimo eh video eh tutto è